Mi avete sentito dire tante volte la mandibola non c'entra niente, l'articolazione della mandibola non c'entra niente, i muscoli del collo non c'entrano niente, la cervicale non ha nulla a che vedere. È vero e non è vero. Nell'ultima riunione sui progetti e sul futuro ho detto voglio rivedere un po' tutto quello che ho sempre affermato per anni e ho parlato anche sul profilo Facebook del cosiddetto acufene somatico. Effettivamente ci sono diversi pazienti, c'è anche un sondaggio in corso sul gruppo dei pazienti, che riferiscono modifiche dell'acufene ma generalmente in senso di aumento dell'acufene toccandosi determinati punti o facendo determinati movimenti col collo o con la mandibola. Ho presostenuto, l'ho detto sin dall'inizio anche nella prima conferenza che ho organizzato qui su Zoom, che ci sono delle basi in anatomia e fisiologia, quelle vanno rispettate e qualunque cosa si dica fuori da quelle basi non è valida, almeno che non è valida. Andando a cercare spiegazioni su come sia possibile che un acufene si modifichi facendo determinati movimenti del collo della testa, ieri mi è capitato un caso incredibile di una paziente che praticamente se fa movimenti di rotazione della testa, se chiude le palpebre, è capace di far scomparire completamente l'acufene e nel momento stesso in cui lo faccia. Sicuramente le correlazioni esistono. In realtà andando poi a rivedere anatomia e fisiologia esistono delle correlazioni ma che non c'entrano niente con l'orecchio, ma l'orecchio per mandare i segnali al cervello passa attraverso determinate stazioni intermedie sulle vie uditive centrali nel cosiddetto tronco dell'encefalo per poi arrivare alla corteccia cerebrale. Sembra, ci sono diversi lavori che lo confermano, io sono sempre un po' scettico perché a volte sono lavori che servono a spingere determinate terapie che poi sono terapie regolatose, che fanno solo alcuni centri e cose varie, però da diverse fonti andando a cercare separatamente ci sono articoli che parlano di correlazioni neurologiche, che sarebbero degli impulsi che partono dalla muscolatura del collo e dalla muscolatura della faccia, ma anche da zone cutanee proprio controllate nel botrigemino che vanno non in tutti e non si sa nemmeno bene come, ma che vanno in qualche maniera a raggiungere gli stimoli che provengono dall'orecchio, tanto da poter creare una sorta di modulazione. Sembra che sia anche fisiologico nel senso che sia una cosa dovuta all'evoluzione perché in realtà può essere utile per localizzare bene i suoni, può essere utile per sopprimere a volte i rumori normalmente interni che noi abbiamo, ad esempio un eventuale stimolo di controllo, di afferenze uditive da questo punto di vista legato alla masticazione, questo non vuol dire assolutamente che io stia ammettendo, allora bisogna curare la mandibola, bisogna curare la cervicale, però sto studiando la possibilità di utilizzare alcuni farmaci in più, in particolare un rilassante muscolare, un mio rilassante o altri tipi di strategie da applicare in più nei pazienti che hanno queste caratteristiche. Metteremo un progetto con dei test che il paziente dovrà fare, che per ora sono molto maccheronici, mi sto mettendo un po' in giro che cosa si propone, però senza che questo sia un passo indietro e dire no guardate che invece gli acufeni possono venire da quello e continua a confermare che non è così, però una modulazione dell'acufene potrebbe derivare da quello e va tenuto in conto.